Si ha detto? Che sono stravolta, i funghi non ci sono ma c'è tanta legna, bisogna andarla a fare perché l'inverno è lungo. Questa è una dichiarazione ufficiale della Bruna la quale sostiene che poiché non ci sono i funghi c'è la legna e quindi la giornata la utilizziamo lo stesso in modo produttivo, fattivo, corroborante e tonico andando a fare la legna ma non è molto soddisfatta perché ha detto che la legna è pesa, è rifornita di zaino plurivalente con 7-800 tasche adatto ai funghi, non c'è la legna perché lo forerà, comunque sono partite in due, una se l'è persa per la strada. Eccola! Dov'è?